Scuole ed università chiuse in tutta Italia fino al 15 marzo. Una decisione presa dal governo seguendo la linea della massima precazione, nonostante il Comitato Tecnico Scientifico avesse evidenziato dubbi sulla sua efficacia. Sospese le manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura e in qualsiasi luogo. Partite e competizioni sportive, compresa la Serie A, verranno giocate a porte chiuse. Tutte le attività dello sport di base in palestre, piscine ed altri centri sportivi, invece, è consentita esclusivamente nel rispetto delle raccomandazioni previste, vale a dire mantenendo la distanza di un metro e usando tutte le precauzioni igienico-sanitarie. La protezione civile regionale raccomanda di limitare l'accesso agli uffici aperti al pubblico, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali e cercando quindi di rispettare la distanza di un metro tra i visitatori, privilegiando quindi modalità di servizio web-web laddove possibile. Chiusi anche cinema e teatri fino al 3 aprile. Teoricamente, se le strutture riuscissero a garantire la distanza di sicurezza di un metro fra gli spettatori, potrebbero restare aperti, ma si tratta evidentemente di una misura difficile da applicare, soprattutto per gli spettacoli in abbonamento, posto che bisognerebbe decidere chi far entrare e chi no fra gli abbonati. Senza contare che sarebbe poi difficile effettuare controlli sull'applicazione di questa misura, insomma un duro colpo per l'economia, considerando che questi settori hanno già subito nelle ultime settimane un calo vertiginoso.